Benvenuti sul canale BG Passone Games, buon sabato, o per chi appunto vede questo video il sabato, comunque buon fine settimana, buon inizio o fine settimana, non so quando lo guardate. Allora partiamo subito con i ringraziamenti, questa settimana diciamo siamo riusciti a superare il traguardo dei 700 iscritti e appunto io ne sono contento, quindi ringrazio tutti, ringrazio tutti anche i ragazzi che si sono divertiti con diciamo le geste del faccione sulle varie serie che appunto stiamo seguendo, che sto portando sul canale, quindi sia la serie sulla carriera allenatore, il gattuso nazionale che appunto con il combo sta facendo un buon campione, sta disponendo un buon campione serie A e il ritorno diciamo del faccione sui campi di eFootball e poi appunto video di ieri e ieri l'altro, lo scopriamo, lo proviamo, un nuovo gioco che è uscito in Game Pass e lo faremo praticamente ormai tutte le settimane o comunque sia quando ci sarà l'occasione di provare. Quindi io ringrazio tutti come sempre e vi invito come sempre a iscrivervi al canale. Allora diciamo come è stata questa settimana, la riprecorreremo vedendo appunto alcune gesta, alcuni stracci di video che appunto ho postato, però è stata una settimana un po' a parte lunedì che è stato il primo maggio e che appunto non ho postato nessun video, è stata una settimana all'insegna di un video al giorno, sono riuscito anche questa settimana a portare sul canale un video per ogni giorno, vi avevo detto che non so se ci riuscivo e invece poi ci sono riuscito e spero di riuscirci anche la settimana prossima, comunque insomma se voi poi seguite anche i vari social cui fa riferimento il canale, io di solito aggiorno anche notizie sui social, mi riferisco a Facebook, mi riferisco alla piattaforma su Instagram, insomma la pagina Instagram, diciamo c'è un po' il mondo sui social cui fa riferimento il buon canale PG Passione Games. Diciamo che la settimana prossima più o meno avremo il solito trend, ovvero due episodi di FIFA ravvicinati martedì e mercoledì, quindi torneremo a calcare con una squadra un po' rivoluzionata, avete visto, ora poi ne parleremo in specifico vedendo il video, vedendo appunto, facendo, ripercorrendo un po' cosa è successo la settimana scorsa, però sarà anche la settimana in cui incomincieremo una nuova avventura, ve l'avevo già accennato, non ero, ero indeciso su quale portare sul canale, erano due titoli che appunto mi premevano di incominciare, o perlomeno cominciarli, uno era Quantum Break, un gioco non giovanissimo che è di nuovo sul Game Pass, ma io l'ho acquistata un po' di tempo fa perché mi garbava la storia, mi piaceva la storia, quindi l'ho appunto come, cioè oltre averlo come possessore del Game Pass, abbonamento del Game Pass, ho anche fisico, quindi disco fisico, quindi è già installato, però insomma avendoci il Game Pass non c'è bisogno di inserirlo all'interno della console. E l'altro titolo invece, visto che è uscito qualche giorno fa l'ultimo capitolo dedicato al mondo di Guerre Stellari, Star Wars, di giocare il capitolo subito prima di quello che c'è adesso, perché potrebbe essere anche un là per una ipotetica serie, quindi sono indeciso tra i due e non ho ancora deciso, magari nei commenti se mi volete dare una mano a scegliere, io incomincerò a registrarlo domenica, quindi l'episodio lo registrerò domenica, lo vedrete lunedì, quindi oggi potete appunto suggerire tra i due che ho detto, Quantum Break e Star Wars, tra le altre cose Star Wars l'ho già portato sul canale, l'ho già provato, poi mi ero fermato, mentre Quantum Break sinceramente non l'ho visto, ci ho fatto qualche parte, cioè qualche parte, qualche minuto ci ho giocato, poi l'ho lasciato perdere quando lo comprai, quando l'ho presi, l'ho presi a ducetti, a dubicce come dire io, ogni tanto ci sono i mercatini in cui ti danno questi giochi, e questo perché non è un gioco ovviamente ottimizzato, ma insomma sarei forse più tentato su Quantum Break, ma ovviamente anche la storia di Star Wars non è poi da meno, quindi vediamo, quindi magari se qualcuno vuol suggerire tra i due, quale potrei portare sul canale, insomma io poi lo posso valutare, ripeto, non lo registro oggi, lo registrerò domani. Detto questo, andiamoci subito a vedere, tra le altre cose la settimana scorsa il weekly è stato forse tra i weekly, a parte quelli dove c'erano gli ospiti, quello più seguito, sempre rapportato ai numeri del canale, io questo ci tengo sempre a dirlo perché ovviamente quando sono poche visualizzazioni uno dice ma cos'è, seguito, cosa? No, io ovviamente parlo sempre a quello che è lo standard su il tipo di video che è appunto posto, cioè il weekly settimanale. Ecco, tra i weekly è quello che è stato un pochino più seguito, quindi mi ha fatto piacere, forse è stata anche un pochino, questa panoramica ha servito magari a qualcuno che non ha potuto vedere, o comunque magari può trarre spunto per poter vedere qualche mio video, qualche mia bischierata durante la settimana. Allora, subito facciamo la solita, anzi questa, la solita diciamo transizione molto violenta, io non sto registrando con OBS, ma sto registrando con l'applicazione della Logite Streamcam, della Logitech in cui sto registrando, ho già postato, e tra le altre cose anche questo video è stato più volte visto, e ringrazio tutti quelli che comunque supportano con andare a vedere il video il canale stesso, quindi magari una recensione, una piccola recensione, sempre fatta a modo mia, la trovate sulla playlist dedicata, è un video di qualche tempo fa, ma insomma è sempre lì, insomma, se uno magari è indeciso sul tipo di webcam che potrebbe, vorrebbe o vorrebbe comprare, ecco questa potrebbe far comodo. Allora, contanto siamo dentro il nostro, il nostro, il vostro, il mio canale, e questi sono gli ultimi, sapete, ci sono i video più, l'ultimi dei prodotti, tanto io mi giro perché altrimenti non riesco a vedere, quindi perdonatemi la pelata che si vede. Allora, cominciamo con la domenica, la domenica siamo stati praticamente, siamo tornati, la domenica, sull'analisi, il venerdì non siamo riusciti ad andare, o meglio sì, siamo tornati in campo, il venerdì precedente siamo tornati sui campi appunto di football, e poi la domenica abbiamo fatto un'analisi di quella che è stata, diciamo, la settimana, così come la vedete poi domani, anche domani alle 10 ci sarà il consueto episodio con e-football dove parleremo di quello che è stato il rewind della settimana, lo parleremo, lo intituleremo come quello della settimana perché è il titolo più giusto da dare a questo capitolo dedicato ai football, poi, ripeto, più avanti ritorneremo in maniera un pochino più costante sui campi di football, per il momento, per quei motivi che vi ho già detto, fatto salvo magari qualche capatina per vedere appunto se gli aggiornamenti sono, migliorativi o meno, cosa che ho fatto venerdì scorso e ve ne ho parlato anche tra le altre cose anche nello stesso weekly, e dicevo, noi dedicheremo solo uno spazio di una giornata alla settimana a questo titolo, poi quando ci sarà la master o comunque qualche altra attività un pochino più, tra virgolette, anzi un po' meno monotona, allora torneremo a fare, a fare anche, a parlare un pochino più del bon e il football. è stata appunto una settimana così, dove ci siamo, è stata la settimana dei giocatori di Milan, vedete, c'è tra le altre cose c'è stato Gioventri, che era Roberto Donadoni, e domani appunto parleremo invece delle altre cose che sono successe questa settimana, ma insomma in questo weekly parliamo un po' di quello che è successo la settimana precedente, e tutti a spacchettare per vedere se si riusciva a beccare Donadoni, ovviamente io non avevo più le monetine, e mi sono dato una regola su questo, ma come devo darvi, diciamo, le regole me le do anche su altri giochi, niente spacchettamento, niente spese di soldi, se c'è qualche monetina bene te la servi, e appunto io volevo prendere Donadoni, ma ripeto, non avendoci monetine, poi se ci avessi avuto anche le monetine, credo che Roberto Donadoni non avrebbe, non sarebbe uscito, perché insomma in questo ultimo periodo sia su FIFA che su EFootball, quando avevo le monetine, insomma non è che ci avessi avuto grande fortuna, tanto vedete qui la grafica ragazzi di EFootball è sempre, è sempre spettacolare, è sempre spettacolare, io qui vedete chiacchiero un fottio, chiacchiero il doppione lì, con questa magliettina leggerina, meno male ragazzi è tornato, è tornata la primavera, cioè è tornata, è partita finalmente la primavera, però non c'è più, come ora sarebbe quasi da dire frase fatta, ma non c'è più le mezze stagioni, che si passa da una giornata tipicamente autunnale a una estiva, in uno strannuto, e quindi appunto, e lì però avevo già, no, questo è di sabato scorso, avevo già una, da di domenica scorsa, scusate, avevo già appunto la magliettina un po' più leggera, e il capello già bello è fatto, quindi sostanzialmente, e niente, quindi sabato o domenica ci siamo appunto goduti l'episodio di, l'episodio di, tanto io sto cambiando e non voglio ovviamente darvi modo di, ecco qua, ritorniamoci, ritorniamo sul canale, e dopodiché appunto andiamo al giorno lunedì, abbiamo fatto festa, nel senso che non ho postato nessun video, tra le altre cose ero anche fuori, quindi non riuscivo fisicamente, volevo fare una piccola, un piccolo short dove magari vi spiegavo perché non, ma poi ho detto vabbè, per un giorno non c'è nulla, però appunto martedì e mercoledì invece, sono stati due episodi seguiti, sì, seguiti abbastanza, però ecco, c'è stato un calo delle presenze per quanto riguarda la carriera, ci sono praticamente i fedelissimi che seguono in maniera costante questa carriera, ci sono episodi dove c'erano molte più visualizzazioni, ripeto, sempre, secondo quelli che sono i numeri del canale, però insomma, io ovviamente la carriera di quest'anno, rispetto agli anni precedenti, mi piace molto di più, per vari motivi, FIFA quest'anno è stato il gioco, intanto entriamoci dentro, facciamo prima l'episodio 52 e poi appunto ci vediamo, eccolo qua, l'episodio 52, lì c'è sempre la magliettina un po' più invernale, perché quel giorno lì quando ci stavo faceva un po' più caldo e il capello non era pentitato come ora, ho le cuffiettine, e dicevo quest'anno come non mai FIFA è stata una scoperta in positivo, poi perché appunto il football è passato un secondo piano, io come se vede chi segue il canale sa che il mio gioco di riferimento relativo al calcio era il football, con quest'anno in maniera definitiva c'è stato un sorpasso da parte di FIFA e anche la carriera ne ha un po' migliorato perché gioco più a FIFA che non ad altri giochi e giocando a foot ovviamente a FIFA carriera si ottengono dei risultati decisamente migliori perché, perché chi gioca a foot lo sa, insomma è un bagno di sangue perché a prescindere da quelli che sono i lag, che comunque ci sono, ma insomma si trovano avversari specialmente per divisioni più alte, quest'anno sono riuscito ad arrivare alla terza divisione, cosa che non è mai successa, io ho due anni che poi sostanzialmente gioco a foot, all'ultimate, alla modalità online, insomma arrivare in terza divisione per uno come me che gioca sì e no, tre, forse cinque partite il giorno, ma non ci riesce, non ci riesce perché poi parallelamente c'è il lavoro principale, ma poi soprattutto c'è il discorso di riportare avanti il canale, insomma è già un buon obiettivo. Quest'anno sono arrivati anche addirittura quasi a un milione di crediti, cosa che anche lì che, e ora dovrò un attimino con questi, con questi, con questi, i tos insomma che stanno uscendo, magari vedere se si riesce a spendere qualche, a spendere qualcosa di interessante. A proposito, ieri, ieri sera, proprio un estremis, dopo le sette vi ho postato un video sulla mia esperienza nello spacchettamento alla ricerca di un tos, mi sono riservato una valanga di pacchetti, ma insomma avete visto poi, insomma se non l'avete visto è andato a vedere, è un video simpatico, è stato diciamo un video in più, ma insomma ho detto ah ragazzi, ho tutti questi pacchetti, facciamo un video, vediamo cosa succede. Quello che succede è un volo di io, ma andatela a vedere se non l'avete ancora visto. Detto questo, comunque se si è successo questa settimana, questa settimana praticamente sarà la settimana dove il calcio del mercato di nuovo ha sconvolto la formazione, perché il buon Hatcher Fletcher purtroppo è andato via, abbiamo preso un altro giocatore dal nome impronunciabile, Tozzo, a differenza di Fletcher è un giocatore che appunto dalla sua ha la potenza e la fisicità e ho pensato di affiancarla, ci sei che invece è più smirso e quindi dovremmo sfruttare questo duo d'attacco con forza, quindi averci un giusto bilanciamento tra la forza e l'agilità. Fletcher tra le altre cose va via con un bottino di 15 gol stagionali, era in testa la classifica cannonieri, purtroppo, forse per l'esperienza mia nel mondo di questa carriera, purtroppo non ho messo una clausola alta, o meglio, ho messo una clausola per scendere il contatto di 6 milioni, cioè 6 milioni di euro per poter appunto svincolare il giocatore e il giocatore si può accordare. E così è fatto, è stato fatto, una squadra tra le altre cose, non mi ricordo nemmeno chi è, vedi qui Fletcher aveva segnato, tra le altre cose è stato professionale fino in fondo questo giocatore qui a grande gol di Ashley Fletcher, eccolo qua, ora ne sentiremo una mancanza, non lo so ragazzi, lo scoprirete solamente martedì, ecco il 22esimo numero 10, se ne va, va in una squadra sinceramente qui contro la Serenitana, sì mi sembra si è vinto questa verità, non me lo ricordo, ma comunque va contro, va diciamo a giocare una squadra, non so se è rumena o non me lo ricordo, comunque non certamente è una grandissima squadra, però gli ha garantito lo stipendio che voleva, ci ha pagato la clausola e noi siamo trovati un pochino di difficoltà ed è la difficoltà che una piccola squadra trova quando c'è il calcio mercato, è successo anche nella, diciamo alla fine della stagione, perdendo Gnonto, quindi noi ci troviamo ora a gennaio con l'attacco completamente diverso rispetto a quello che invece avevamo la stagione precedente che ci aveva dato tutte queste vittorie. Che dire ragazzi, non lo so cosa succederà, l'obiettivo non siamo, siamo fuori dall'Europa, siamo vicini, però siamo fuori dall'Europa e non lo so cosa può succedere, io spero ovviamente che la squadra riesca, alziamo un pochino, la squadra riesca in qualche modo a, così, a, diciamo, a piazzarsi, a avere un piazzamento UEFA, va bene anche l'ultimo posto disponibile, quella per la conferenza, insomma, noi ci siamo posti l'obiettivo di arrivare in Europa, anche perché credo che non avendo appieno soddisfatto quelli che sono le richieste della società, un mancato piazzamento in Europa potrebbe coincidere con una cacciata da parte di Mister Gattuso. Quindi vediamo cosa può succedere e se andiamo in Europa, continuiamo con la quarta stagione, altrimenti faremo qualcos'altro o cambieremo squadra, oppure, una cosa che volevo fare un po' già dalla stagione precedente, concluderemo la nostra esperienza con FIFA e poi incomincieremo a settembre con il nuovo titolo di IA, che appunto noi lo prenderemo in esclusiva, comunque sia, lo prenderemo al day one, diceva appunto che ci accompagnerà alla fine di FIFA con la carriera, però questa volta calciatore, quindi sceglieremo un calciatore, non so se lo costruiremo, vediamo un attimino, quindi se non andiamo in Europa facciamo questo, invece andiamo in Europa, finiamo la quarta stagione con il Comune Europa, quindi preso dalla Serie B e lo portiamo in Europa. E questo è quello che è successo, ora io ovviamente abbiamo fatto due episodi, il 52 e il 53 mi sembra, e questo è un po' uno straccio della partita, intanto vediamo se io riesco a farvi vedere quando va via Fletcher, questo cos'è? No, qui quando abbiamo vinto a Salerno, eccolo qui, questo qui è la classifica, noi siamo settimi, a due punti del Milan, ma insomma siamo rimasti lì, questo è l'episodio, cambiamo l'episodio, cambiamo l'episodio e andiamo, vediamo un po', allora anche questo, sì, cambiamo l'episodio, ma è qui Fletcher se ne va, arrivederci, grazie, eccolo qui, vediamo un nuovo acquisto, questo chi è? Arrivederci Bomber, questo è Cissè che prende il posto, praticamente dovrebbe essere lui quello che diventa il Bomber della squadra. Ora su Cissè bisogna poi lavorarci un po' contro la Juventus, le partite è importanti ragazzi, date la vedere perché abbiamo giocato contro squadre di un certo tipo, qui contro la Juventus, siamo riusciti a vincere, insomma, non ci siamo fatti mancare niente. Ripeto, l'unica cosa negativa appunto è questo Fletcher che se ne va, ma insomma, ce ne faremo una ragione. E torniamo appunto a schermo intero e andiamoci a vedere, quindi concludiamo poi, l'esperienza con il titolo, l'esperienza con il titolo della Red Fool. Allora, a giovedì abbiamo provato questo gioco che praticamente il giorno prima era uscito sulla piattaforma Microsoft al day one, come appunto vi avevo detto, noi abbiamo giocato il giorno dopo, ma insomma non potevamo giocare quel giorno per vari motivi, tra i quali appunto ve l'avevo già spiegato, no? E devo essere sincero, allora, una piccola analisi, ovviamente io non sono certamente la persona più adatta per fare le recensioni di un gioco, però devo essere sincero, non mi è dispiaciuto questo gioco. È un gioco in prima persona, diciamo, che ha una certa manovra, come dire, il personaggio si, diciamo, muove in un contesto particolare e noi con il pad riusciamo a fare tanti movimenti, tanti altri invece sono un po' difficoltosi a farlo e questo è quello che ho notato. La grafica ovviamente non è il suo forte, ma ovviamente, se si paragona ad altri titoli dove la grafica ovviamente è il suo plus, però bene o male non è, diciamo, un gioco malaccio. Io non ho sentito di tanti che ne parlavano male, ho visto delle recensioni, non ci siamo, ci vorranno Apache. Ragazzi, io non so cosa cercate in un gioco. Questo è un gioco che va giocato con un settaggio particolare, ma questo lo dice già se andate sul loro sito, quindi sul sito dedicato. È adatto, a mio avviso, impostare la grafica con 30 fps. È vero, ci sono giochi ora che girano in maniera meravigliosa con molto più fps, con 60 fps, però questo momento va giocato con tre, io così l'ho postato e così io sinceramente tutta quella disgrazia a cui si vuole andare addosso a questo gioco non l'ho trovato. Non è un gioco che, anche se ho postato due video, quindi ho giocato un'ora, un pochino, ecco, ci ho tenuto a portare il secondo video perché, quello di ieri, perché appunto solo giocando un pochino di più, facendo qualche missione si può dare un giudizio a meno o meno uno come me che poi di fatto non è certo un licenzio di giochi, ma è un giocatore, tra virgolette, della domenica. Ecco, solo giocandoci un pochino più spesso uno può dare un minimo di giudizio. E devo essere sincero, non mi è dispiaciuto. Non è il gioco in cui ci farei una serie per vari motivi, però ho visto che, bene o male, diciamo, a livello di giocabilità, noi abbiamo giocato con la potenza più facile, questo perché, insomma, io quando gioco non voglio spaccarmi la terza a due per capire cosa devo fare oppure non riuscire a uscire da una situazione perché è impossibile, un po' come Mafia 3, no? Per quel motivo che vi ho detto momentaneamente lo sospendiamo, perché è impossibile. Ci sono delle situazioni in cui è impossibile uscirci fuori. Però, devo essere sincero, è stata un'esperienza di un'ora e qualcosa, di gioco effettivo un'ora, 55 minuti forse, poi tante chiacchiere, che non mi è dispiaciuta. La grafica, la vedete anche da qui, insomma, la grafica, a parte questa è la parte descrittiva, però ci sono i giochi che già nella parte descrittiva sono veramente veritieri, ma vero? Ecco, questo invece non punta tanto sulla grafica, ma punta molto sulla storia, storia che appunto vede questa, diciamo, questo mondo che praticamente è stato colpito da, non ho capito, non si è capito bene quale problematica a livello mondiale, ma che praticamente ci sono dei sopravvissuti, tra i sopravvissuti ci sono quelli buoni e quelli cattivi, quelli cattivi, imprigionati, quelli nuovi, infatti noi nel periodo di ieri abbiamo liberato tra virgolette, diciamo, gli imprigionati, quelli buoni, e poi con quelli buoni siamo riusciti a far comunella, chiamiamolo così, e per quelli buoni, se uno continua il gioco, deve andare a poi, a trovare tutte quelle che sono sostanzialmente le cose necessarie per poter vivere in maniera degna, no? E contestualmente, oltre alle bande, diciamo, di cattivi, ci sono anche i vampiri, questo mondo così apocalittico, a noi appena si incomincia, ora poi me lo mando un pochino avanti, noi siamo, vediamo un po', ecco qui, siamo dentro, ecco qui, siamo dentro questo, noi ci svegliamo, no? Si incomincia così il gioco, noi ci svegliamo dentro questo traghetto che praticamente è nel limbo, perché non è nell'acqua, è in mezzo sulla terra, è in mezzo dell'acqua, vediamolo, no? Che si sta, si va avanti, e se si riesce a vedere, qui siamo qui, andiamo un po' ancora avanti, quando si esce, ecco, vedete, diciamo, questo è sul pontile, cioè, siamo in una zona, in un limbo, e quindi in questo limbo, sostanzialmente, noi bisogna, bisogna uscirci, e appunto, si esce, insomma, vedete il loro video, dentro nella playlist dedicata, lo trovate, e ringrazio tutti quelli che l'hanno visto, anche se, ovviamente, c'è, a mio avviso, le cattive recensioni di questo gioco, hanno fatto sì che, prima di tutto questo gioco, sulla piattaforma YouTube, c'è veramente poco, ci saranno, in Italia, e parlo italiani, boh, forse due stream l'hanno portato, forse, ma hanno portato solo i primi 30 minuti, un po' come Atomic Heart, no? Dove, appunto, all'inizio, tutti sono partiti, anche quello era un gioco al day one, partiti tutti, con la cresta retta, e poi, dunque, si sono fermati, e, però, diciamo che, sostanzialmente, è, questo gioco, a mio avviso, visto che, appunto, è, per chi c'ha il Game Pass, c'ha la gratis, io, io, tante volte l'ho giocato sul clude, quindi non c'è bisogno nemmeno, di, di scaricarlo, io, una capatina, una, come dire, un controllino, lo farei. Bene, torniamo in, in prima, in prima faccia, in faccione, ragazzi, io direi di chiudere qui, dopo 25 minuti, la settimana prossima, l'ho detto, sicuramente ci saranno, i due episodi di FIFA, incomincieremo la nuova serie, e, dovrò portare, credo di portarla lunedì, il primo episodio, vediamo se poi, riuscirò a farlo, anche i giovedì e il venerdì, vediamo, vediamo tutto, queste cose qui, sicuramente ci sarà, ci sarà poi il, l'episodio appunto del proviamolo, perché c'ho già in mente qualche altro gioco da provare, che è sul Game Pass, che dire, quindi io, vi invito come sempre, ragazzi, a dare una mano a questo canale, per arrivare ai 1000 iscritti, quindi a voi non vi costa niente, a me fate, più, un grosso piacere, sempre ovviamente, a livello così di, come dire, cioè, è un piacere così, non è che, ovviamente, con 1000 iscritti ci guadagni, è cambiato via, però, insomma, è, tra virgolette, un giusto riconoscimento, magari, perché, ragazzi, c'è un canale, come il mio, ad esempio, molto modesto, anzi, molto più che modesto, ma, comunque, c'è dietro un lavoro, c'è dietro una preparazione, e quindi, insomma, il cliccare su iscriviti, il cliccare su iscriviti, è, diciamo, è l'unico compenso, per un canale piccolo, come il nostro, che può avere, quindi, ovviamente, iscrivendovi, vi, come posso dire, vi, vi, permettete a questo canale, di, fate capire a questo canale, che comunque, quello che viene fatto, è apprezzato. E con questa, diciamo, massima, io vi saluto, e vi do appuntamento, domani, alle 10, con un nuovo episodio di, eFootball, quindi, analizziamo, il rewind della settimana, e poi, la settimana prossima, rincominceremo, e ripeto, ci sarà una nuova serie, in partenza. Io vi saluto, e vi do appuntamento, per quanto riguarda il weekly, a sabato prossimo. Ciao, ciao, ciao.